Un successo per l'Italia, per il popolo italiano, per la popolazione della Toscana e di Piombino. Il fatto di poter eliminare almeno in parte questa dipendenza dal gas che arriva dalla Russia è un fatto significativo. Ci consente poi di abbassare i prezzi sul mercato. È un fatto a mio giudizio molto importante che abbiamo costruito cercando di mettere in condizioni di massima sicurezza il luogo, la banchina della Darsena Nord di Piombino e cercando anche di approfondire tutti quegli aspetti che poi abbiamo preso in considerazione attraverso i pareri che più di 80 enti hanno espresso, attraverso anche una consultazione delle varie perizie, opinioni, relazioni tecniche che ci sono state inviate e quello che la nave troverà nel momento in cui attracca stasera è il risultato di tutte queste prescrizioni a cui noi cercheremo di far seguire il posizionamento migliore possibile per garantire la sicurezza appunto qua nel Porto Piombino.